Grazie Presidente. Io volevo ringraziare le altre forze politiche per aver ritirato i loro documenti e per aver consentito di votare un atto unico che ha sicuramente più forza. Per noi deve essere un momento oltre che di grande orgoglio e ringrazio per questo le associazioni che oggi sono intervenute e che ci hanno portato la loro importante testimonianza. Deve essere un momento di profonda riflessione. La vita va avanti, va avanti velocemente. Il legislatore a volte non ce la fa a rincorrerla e noi spesso ci troviamo di fronte a degli ossimori viventi, delle situazioni che non si riesce ad incanalare nelle branche della legislatura. Però il nostro impegno deve essere sicuramente sempre quello di estendere i diritti a tutti. E mi dispiace in questo contraddire qualcuno che ha parlato in questa sede. Estendere i diritti agli altri non vuol dire negare i diritti a chi già ce l'ha. Assolutamente no. E' come voler dire che una madre ha una quantità di amore limitato e che più figli ha meno ama. No. I diritti sono un qualcosa che deve essere garantito a tutti gli individui, oserei dire, del mondo. Anche se qui siamo in un piccolo contesto e dovrei dire semplicemente ai cittadini di Roma Capitale. È fondamentale cambiare il pensiero culturale della società. E per questo ci vuole molto tempo e per questo ci vogliono molte anime che collaborino in questo. È importante che lo faccia la scuola, è importante che collaborino le associazioni, è importante che le istituzioni mettano in campo tutto quello che possono per evitare che si possa avere una società che abbia dei limiti discriminatori nel proprio pensiero. Affermare che ogni aggressione è punibile allo stesso modo non ritengo sia idoneo e offende forse anche l'intelligenza di chi ascolta. Perché quando si aggredisce una persona così senza un motivo è un'aggressione che va punita. Ma quando si aggredisce una persona perché dà fastidio, non voglio usare la parola intollerante, ma dà fastidio l'esistenza dell'altro. È una cosa ignobile e va perseguita in un modo diverso, in un modo peggiore. Noi dobbiamo dare oggi forza a quello che stiamo facendo. È un inizio, un inizio di un percorso. Perché noi non possiamo negare le realtà che esistono. Noi possiamo solamente includerle ed abbracciarle virtualmente, ma anche fisicamente. Dobbiamo farle sentire parte di noi perché sono parte di noi. E' vero quello che dice, è molto vero, lo sento anche personalmente, le affermazioni che ha fatto prima la consigliera Celli. Io ho visto troppi ragazzi soffrire, troppi ragazzi decidere di togliersi la vita perché non accettati dalle proprie famiglie. E questa è una cosa che noi non possiamo tollerare. Non possiamo tollerare perché se si fossero fatti dei ragionamenti anni fa, forse adesso la società sarebbe probabilmente molto più civile. molto più civile e quindi voglio ribadire con forza la volontà di questa amministrazione e di questo gruppo politico a votare positivamente questo atto che abbiamo fortemente voluto perché lo condividiamo in pieno in ogni suo punto. Grazie ancora alle altre forze politiche.